Musica da pianoforte alla stazione di Venezia. Qualche maschera ravviva la festa. Musica da pianoforte alla stazione di Venezia. Mentre di fronte al caffè Pedrocchi giocano i bambini mascherati sotto gli occhi di genitori e amici. Musica da pianoforte alla stazione di Venezia. Sui leoni volano i sogni e i desideri infantili colorati d'azzurro, sotto un cielo illuminato di bei presagi e caleidoscopiche fantasie. Il pagliaccio gonfia i palloncini e li dona sapientemente nel piazzale antistante. Si prepara lo spettacolo del martedì grasso padovano, organizzato e condotto in maniera precisa. E ci trasferiamo nella magia veneziana, di fronte al teatro Goldoni, fra Rialto e San Marco. Gli attori preparano la loro pizze carnevalesca, un omaggio al grande commediografo con Goldoni Experience. E all'interno il palco attende chi inizi la serata, per dare vita ad uno spettacolo divertente e brioso, recitato ad hoc in dialetto veneziano, con spunti e gag della commedia dell'arte, e un doveroso omaggio alla città lagunare da parte del Teatro Stabile del Veneto. Un carnevale che si conclude nella città simbolo di questa festa, con una commedia goldoniana in tema e nello stile originale.